Attorno alle 13.30 di oggi una colonna di fumo si è alzata dall'acqua del fiume Foglia arrivando fino a inghiottire le auto in transito sul ponte Brigata Ebraica che a Pesaro collega Largo Tre Martiri a Via Mameli unendo la statale al centro storico. A prendere fuoco i quintali di legname che durante l'alluvione di maggio hanno ingrossato il fiume caricandolo di tronchi, rami e arbusti di velti. Cataste di legname che sgonfiata la piena si sono depositate e arenate alla base del ponte. Legna che oggi ha preso fuoco. Difficile capire se per qualche agente doloso esterno o per una combustione agevolata da un mercoledì da bollino rosso per ondate di calore che a Pesaro hanno toccato il picco estivo dei 40 gradi percepiti. Il rogo è stato sedato con rapidità dai tre mezzi dei vigili del fuoco in un incendio di fatto verificatosi a poche centinaia di metri dalla propria caserma. Incendio che i vigili del fuoco hanno spento intervenendo dall'alto del ponte. L'intervento ha portato la polizia locale a interrompere inizialmente il transito dei veicoli in direzione centro, dopodiché il ponte è stato interamente chiuso al traffico per buona parte del pomeriggio in seguito al monitoraggio del rogo e dell'annessa messa in sicurezza. Pomeriggio in cui è intervenuta un autogru per agganciare i tronchi, sollevarli, completarne lo spegnimento e predisporne la rimozione. L'assembramento di legname in questione è stato più volte oggetto di inviti alla rimozione sull'onda del timore di una nuova piena e invece oggi si è rivelato problematico per una ragione in attesa. Fin qui i tempi di rimozione si sono arenati nella burocrazia di competenze e nella scaletta di urgenze post-alluvionali in attesa di fondi. Quella degli incendi è una situazione particolarmente delicata in vista delle alte temperature di questi giorni. Dopo il picco di temperatura registrato oggi, la settimana continuerà all'insegna di analoghe ondate di calore.